I fratelli dello spazio Attraverso Wanda, Albano, 24 giugno 1998, a cura di Vubbi Civiltà e Nu, salve sorella di tutti i tempi, che percorri le vie del mondo alla ricerca della tua vera essenza Il vero scopo dell'esistenza è di essere creature cosmiche, anche sulla Terra Quale insegnamento concreto puoi dedurre dalla lettura che oggi hai iniziato? Niente ti meraviglia, e l'indicazione che ne puoi trarre è di prendere coscienza dell'eterna ricerca Da cui l'uomo come essere rimane affascinato Almeno nei pochi momenti che dedicate alla preghiera o alla meditazione Cercate di assimilare il respiro divino Di compenetrare quale sia veramente il cammino di un essere Un essere sempre alla ricerca di qualcosa che lo soddisfi Di comprendere quale sia lo scopo di tutti i suoi trapassi e le sue rinascite E del perché, dopo tante esperienze, stia ancora brancolando nel buio Egli si chiede Come mai l'anima eterna ricercatrice della sua strada Ancora non ha acquisito il sapere universale Come mai dalla vita nell'eterno presente Si proietta e si immerge sempre di più nella materia Come mai con la sua forza di volontà Non riesce a dominare sulla parte terrena E a far emergere la sua appartenenza Che è il luogo dove anela ritornare Come può rientrare nella sua patria Se non porta a compimento la sua purificazione Cara sorella Ti diamo modo di riflettere perché Tu hai bisogno di un esame attento Che ti conduca alla consapevolezza del tuo divenire Come forma astrale Sei sempre alla ricerca dell'io subliminale Quell'io che sente la mancanza del respiro divino E dell'appartenenza al tutto Essendo consapevole che questo distacco Questa lontananza Anziché assottigliarsi Lo opprime sempre di più E ora che tu spicchi il volo Immergendoti nel sapere E ritrovando dentro di te quella sapienza Che ti è stata elargita con amore Come mai Seguendo il tuo percorso Ti sei infossata Incapace Di scrollarti di dosso La pesantezza che tarpa le tue ali Perché non cerchi la tua vera essenza? Perché sosti Di fronte a una verità così illuminante Che ti viene donata Dall'energia del cosmo? Sono tante le domande Che ti rivolgiamo Per farti arrivare a comprendere La tua vera essenza È vero Tu non sei digiuna di queste conoscenze Ma se rimane soltanto sapere Senza essere messo a frutto A cosa ti serve? Non è questo il cammino che devi fare Avevi deciso ben altro E dovevi raggiungere altissimi traguardi Perché tante soste? Continua nei video successivi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti